Saranno completati entro fine mese con circa tre settimane di anticipo sui termini previsti dall'appalto i lavori di messa in sicurezza del costone tufacio che sorge lungo la statale 187 alle porte di Castellammare del Golfo. Il collegamento viario era stato chiuso al transito alla fine dello scorso mese di ottobre per la caduta di alcuni massi e per evitare rischi alla pubblica incolumità. La ditta che sta eseguendo i lavori, la Cruschina Costruzioni, sta installando 1.400 metri quadri di rete d'acciaio lungo un'area di circa 2.700 metri quadrati. Nel corso dei lavori è stata eliminata anche la pericolosità di un non grosso masso del peso di circa quattro tonnellate. Sulla problema stabilità del costone tufacio si erano anche incrociate alcune polemiche fra l'attuale amministrazione comunale e la precedente guidata da Nicola Coppola. Va detto che è poco elegante, che ogni volta che cade poi una pietra, le pietre tenendo conto che sono sempre cadute. Quando cade una pietra, da sempre, l'anas o chi per resta, la levava e poi si cercava di mettere in sicurezza l'impianto. Quindi diciamo che è poco elegante declamare questa operazione come una incoscienza di chi c'era prima, perché non è così. Ognuno di noi fa le scelte, se vivesse due o tre volte, però alcune cose le farebbe. Di nuovo e altro no. Stai parlando delle cadute dei massi della 187 che secondo qualcuno la tua amministrazione con leggerezza non chiudeva la strada. Noi abbiamo, storicamente abbiamo fatto un errore. Io ero convinto che amministrare una città significasse fare quanto più cose possibili. È prevalente invece un altro concetto, ma non solo a castellammare, un po' dappertutto, che per amministrare bene non bisogna fare niente, perché sul niente che tu fai non ti viene rimproverato assolutamente niente. Quindi questo è un, come dire, uno sfogo insomma che è anche legittimo. Cadono le pietre. In questo momento per andare in spiace ci può andare con l'alicottero, perché da questo lato c'era una pietra che è caduta e stanno facendo le opere, per carità di messa in sicurezza, sotto quello che vogliamo. Dall'altro è caduto il ponte. Sulle due strade comunali, da un lato c'è stata una frana di terra, dall'altro c'è un'altra frana su cui, insomma, non so come si dovrebbe intervenire. Ecco, un momento di concretezza in più, secondo me, ci vuole. Però non poteva, non si poteva, nessuno poteva prevedere la caduta del ponte. Nessuno.